Chi non si forma si ferma ed è per questo che abbiamo da quattro anni organizzato una scuola di alta formazione sulla medicina funzionale, biofisica, epigenetica, nutraceutica ma soprattutto clinica applicata, cioè la possibilità finalmente di aiutare il professionista a avere un approccio, una visione clinica integrata, una scuola di alta formazione che inizierà a ottobre, la prima settimana di ottobre dopo il congresso internazionale che si terrà il 9-10 settembre a Bologna e sarà una delle scuole come sempre rivoluzionare nel mondo della medicina, della medicina funzionale, dell'applicazione clinica di quelle che sono le possibilità di intervenire a scopo preventivo di supporto nelle varie possibilità terapeutiche.